Eccoci qua, abbiamo, come dire, festeggiato la Pasqua con questo nuovo look, io però sono curioso di sentire le sensazioni di Sabrina, come sempre, la prima volta che, anche se in questo caso è solo una mezza rasatura, però le sensazioni ci sono particolari al tatto. Sì, sì, no, mi piace, mi piace talmente che, te l'ho detto, mi sa che a fine mese, visto che andiamo anche incontro all'estate, facciamo anche pulire tutto, perché mi piace, mi piace, non mi immaginavo che mi piacesse così tanto, che mi sarebbe piaciuto così tanto. No, la testa ha anche una bella forma, quindi si può fare, si presta, eventualmente, non abbiamo orecchia sventola, quindi anche, non diventa, diciamo così, una cosa ridicola. Mi si ossigena anche il cervello, meglio. Quello sarebbe un apporto non indifferente ai poveri neuroni. Uno ne ho, ad Alberto. Eh, vabbè, trattiamolo bene. Appunto, anche perché ha bisogno di stimoli, ha bisogno di un po' di carica, quindi secondo me ci sta anche bene. Vabbè, questo potrebbe essere anche una specie di regalo agli amici di Artforum per Pasqua e per tutta la primavera, sperando di trovare tante fanciulle che emulano queste cose. Un po' adesso, vabbè, è di moda, questo è molto azzardato, ma le rasature se ne vedono in giro. Quando uno vuole esagerare, sapendo che è un'esagerazione di gioco che dura una settimana e poi comunque c'è di nuovo il grigino, c'è la crescita pian pianina, quindi può essere anche un'idea, stupiamoci, stupitevi, stupiamoci. Ragazzi, dal vostro Barber e da Sabrina, un bye bye e alla prossima, al prossimo video. Bye bye, altro look, altro giro, altro regalo. Fate il gettone, comprate il gettone alla cassa e via con l'autoscontro Picalunga.